Odori, sapori e gusti del cibo di strada lungo la calata Caio Duilio. Lo street food al porto di Pesaro è una delle iniziative pensate dall'amministrazione comunale pesarese per valorizzare l'area portuale nella stagione estiva e per incentivare la frequentazione di cittadini e turisti. Il progetto sperimentale per la valorizzazione della zona prevede anche l'organizzazione di piccoli eventi culturali. L'ufficio attività economiche lancerà a breve, nei prossimi giorni, il bando dove verrà rilasciata una concessione per un food truck. Si è pensato a questa area per riqualificare la zona, per pensare anche al fatto che al mattino ci sono i pescatori e potrebbe essere anche tutto un discorso di commercio a chilometro zero. Deve essere un'area che pensi anche alla cultura, alla creatività e crei l'atmosfera. Gli orari saranno dalle ore 16 alle ore 22 perché ad oggi il DPCM dice questo. È fondamentale che ci sia l'ordine in quest'area. In caso il DPCM a giugno dia la possibilità di allungare le serate, il massimo che potrà dare il servizio a quest'area sarà fino alle ore 11. Come dicevo si è pensato anche a creare dei piccoli eventi che vadano nella direzione di musica, poesia, lettura di libri. Quindi sarà un'opportunità sia per chi in questi mesi non ha potuto fare fiere o comunque no a svolgere l'attività come negli altri anni, ma sarà anche un'opportunità per tutti i pesaresi e anche per i turisti del territorio. Nel frattempo in questi ultimi giorni sono aumentate le domande giunte agli uffici comunali da parte delle attività locali per richiedere l'occupazione di suolo pubblico. Le domande sono circa da due settimane che arrivano e poi in questi ultimi giorni sono aumentate. Posso dire che è fondamentale a tutte le attività, colgo l'occasione visto che ho l'opportunità, di dire che la domanda va fatta, deve essere fatta all'ufficio attività economiche, c'è un modulo da compilare molto semplice e allegando una fotografia. Tutto questo è importante per la propria tutela dell'attività che richiede il suolo, ma anche per i pedoni, i disabili e la sicurezza stradale. Lo scorso anno sono state fatte 150 richieste e attendiamo anche tutto il mese di maggio, che arrivino come lo scorso anno, le richieste. È fondamentale mantenere le regole del Covid, ma anche mantenere il rispetto per gli abitanti che abitano, sono vicini, ma nello stesso tempo chiediamo anche alle persone di capire l'esigenza delle attività che hanno sofferto in questi mesi. Con il DPCM queste attività devono per forza, per fare servizio al tavolo, avere i tavoli fuori. Ripeto, dal primo di giugno la situazione dovrebbe cambiare o comunque diminuire le attività che hanno in esterno.